Voglia di normalità e tanto mare, affollate le spiagge di Bari nel primo fine settimana di giugno. Nel capoluogo tornano anche i turisti, ma la ripresa del settore è timida, i dati ancora bassi, la metà rispetto allo stesso periodo del 2019. Intanto ultimi ritocchi, in assessorato alla cultura sul programma estivo di iniziative, si parte il 25 giugno con una libreria a cielo aperto sulla muraglia, una tre giorni fino al 27, che prevede incontri con scrittori, laboratori per bambini, letture e riflessione. Coinvolte tutte le librerie cittadine dell'area metropolitana che hanno aderito al progetto. L'assessore Ines Pierucci ci ha illustrato i dettagli. Questo programma scientifico del lungomare di libri è organizzato felicemente dal Salone del Libro di Torino che sta collaborando con 25 rappresentanti tra librai ed editori che esporranno i loro libri sulla muraglia con le presentazioni di libri all'interno del Fortino Sant'Antonio e al Margherita con la mostra di Steve McCurry. Si proseguirà con la programmazione estiva. Ad agosto la Festa del Mare abbraccerà il Bari Piano Festival. Poi sarà la volta del premio Nino Rotta e del Festival dell'architettura in scena, quest'ultimo dal 1 al 20 settembre, mentre riapre il Teatro Margherita con una mostra sulla fotografia d'autore. Grazie al bando dei contributi culturali del Comune di Bali che abbiamo per la prima volta pubblicato adesso e non a fine anno come era di consuetudine, potremo permettere agli operatori di programmare il loro lavoro e noi amministratori di in qualche modo comunicare al meglio l'offerta culturale che vedrà tutta l'estate, l'autunno e la fine del 2021 con un bando finalmente che guarda al futuro e non al passato.